Buongiorno a tutti, la signorina bellissima, straordinaria a ascoltare una voce di polimia, ci canta con una volta, una giovane, anche di Roberta, and I'm telling you. Io, alloggiando, alloggiando, ormai la conosco da noi, io mi conosco da qui, e tutte le notti mi ha dormito col suo canto meraviglioso, ma la rispondiamo. E questo non penso, e in questo va bene o no, e noi ascoltiamo la voce, grazie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.